Si svolgeranno domani alle 16.30 nella chiesa di Santa Croce a Calcinelli i funerali di Davide Zandri, 44 anni, operaio metalmeccanico della Profiglas e di suo figlio Fabio, di 7 anni, deceduti nelle acque antistanti alla spiaggia libera di Gimarra. Una tragedia che ha lasciato sgomente tre comunità, quella di Fano, dove si è consumata la disgrazia, quella di Cogli al Metauro, in cui risiede la famiglia, e quella di Terre Roveresche, dove Davide è cresciuto. Oltre al dolore e alla vicinanza espressa da privati e istituzioni, sono stati ore di apprensione per Luca, il dodicenne strappato dalle onde e rianimato dai bagnini. Il ragazzino, che dall'ospedale Santa Croce di Fano, era stato subito trasferito al Salesi di Ancona, per fortuna sta meglio. Dopo il ricovero nel reparto di rianimazione per sindrome di annegamento, ci hanno riferito che è stato spostato in pediatria, dove proseguirà il percorso di cura. Il giorno dell'addio a suo fratello e al papà, a Cogli al Metauro e a Terre Roveresche, sarà lutto cittadino e negli uffici pubblici verrà esposta la bandiera mezzasta. Il sindaco Pietro Briganti, che questa mattina ha firmato un'ordinanza, invita i cittadini e le organizzazioni sociali a sospendere le attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto. Ai commercianti, invece, si chiede di abbassare le saracinesche in occasione dell'eseque. D'altra parte, il sindaco Antonio Sebastianelli ha stabilito l'annullamento di ogni manifestazione pubblica prevista per domani, la sospensione delle attività ludiche e ricreative, nonché dei comportamenti che contrastino con il carattere luttuoso della giornata. Gli uffici comunali, inoltre, osserveranno un minuto di raccoglimento alle 16.30, orario d'inizio del funerale, e l'amministrazione comunale invita anche tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e i titolari di attività di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune e a osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Davide e Fabio. Intanto è stata avviata una raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe per aiutare Stefania e i suoi due figli, visto che quello del marito era l'unico reddito in casa.